Ben trovati amici al nostro appuntamento settimanale con i consigli di lettura. Questa settimana ti racconto un libro, vi propone il nuovo romanzo di Nicolas Barron, l'amica della sposa. Eccolo qui, una nuova commedia romantica e direi che ci troviamo di fronte a una romantica commedia degli equivoci. È una storia attraente, accattivante. Nicolas Barron si conferma maestro della comedy romance e di un romanticismo brillante. Storie d'amore e di vita coinvolgenti, attraenti, che ci emozionano, ci commuovono, ci fanno sorridere, ci fanno riflettere. La nuova storia che ci propone Nicolas Barron in questo romanzo riguarda due amici che in fatto di donne hanno sempre avuto gli stessi gusti, eppure uno è sempre arrivato prima dell'altro. C'è però un matrimonio di mezzo e quindi il protagonista di questa storia decide di partecipare al matrimonio del suo migliore amico, ma si accorge a un certo punto di essere arrivato nel matrimonio sbagliato, alla festa di matrimonio sbagliata. Eppure certi errori costituiscono delle opportunità inaspettate, un bivio imprevisto della vita. L'amica della sposa di questo matrimonio, a cui il nostro protagonista partecipa in via del tutto clandestina, è molto affascinante, attraente, interessante. E quindi partecipare al matrimonio sbagliato potrebbe rivelarsi anche un'occasione preziosa. Il nostro consiglio per questa settimana quindi è l'amica della sposa di Nicolas Barron, una nuova commedia romantica, divertente, coinvolgente, che ci emozionerà, ci divertirà, ci commuoverà e ci porterà ancora una volta a riflettere con apparente leggerizza sulle possibilità che la vita ci riserva, sugli incontri inaspettati che possono costituire dei veri e propri giri di boa. Io vi auguro come sempre buona lettura, vi aspetto alla prossima settimana per un nuovo attore, un nuovo libro, ma intanto ricordate l'amica della sposa di Nicolas Barron. Ciao!